Siamo qui appunto con la nostra psicologa e criminologa Roberta Catania. Ciao Roberta, ben ritrovata. Grazie. Buon pomeriggio. Ecco, io volevo legarmi proprio all'ultima parte di quello che ci ha detto Alessandro, no? Ieri appunto tutti, un po' tutti forse eh ci aspettavamo questa questa sentenza, no? E invece è stato deciso di eh rimandarla a una data eh abbastanza poi eh importante che il venticinque novembre troviamo esatto è la giornata contro la la violenza su sulle donne. Cosa dobbiamo aspettarci? Ma io non credo che ci saranno grandi sorprese da questo primo grado perché mi sembra che la requisitoria del PM abbia spiegato in qualsiasi modo in ogni punto cruciale quello che poi è stato tutto l'iter seguito da Impagnatello tanto per appunto no provare a farla portire per poi spostarsi con il pensiero a un evento più eh impattante perché evidentemente no quello che stava mettendo in atto non stava dando i suoi frutti e quindi poi arrivare all'epilogo che tutti conosciamo e ehm oltre a tutti i dettagli appunto precisi della della vicenda la PM si è spinta molto in alto perché ha anche fatto una cornice personologica di Impagnatello tra l'altro no eh supportata da quelle che sono state poi le perizie ehm che non hanno lasciato margine di pensare ad altro che una piena lucidità quindi io immagino che questo spostamento non sia tanto perché poi ci aspettiamo che qualcosa cambi sull'aspettativa della sentenza che non può che non essere a questo punto nel gastro ma appunto la scelta del 25 novembre non è secondo me casuale perché diciamo che il caso di Giulia Tramontano così come è stato quello per la Cecchettin eh impattano tantissimo ecco impattano e ci ci fanno vedere una realtà che forse non tutti sono pronti e disposti a vedere tra l'altro proprio ieri ricorreva insomma l'anniversario di Giulia Cecchettin ehm riguardo a quello che ha detto la PM e anche Alessandro l'ha sottolineato ha utilizzato un termine diciamo un una frase molto molto forte c'è un viaggio nell'orrore proprio per raccontare tutto quello che è avvenuto e che poi ha portato all'omicidio di Giulia Tramontano ehm però appunto cerchiamo di di delineare quelli che sono i tratti caratteristici magari da una parte di Impagnatiello che come ci ha detto anche Alessandro non si è voluto fare riprendere dall'altra parte dato che l'abbiamo nominata il caso di Giulia Cecchettin dall'altra parte c'è invece un Filippo Turetta che l'abbiamo visto quello che ha detto e anche il modo in cui l'ha detto eh ha raccontato tutto proprio in in aula cerchiamo di fare magari delle delle differenze e qualcosa che li accomuna da una parte Impagnatiello dall'altra parte Turetta. Le accomuna sicuramente una struttura di personalità di matrice narcisistica questo ce lo racconta la perizia di Impagnatiello perché eh in qualche modo la perizia ha delineato una personalità altamente compromessa nel senso che si parla di tratti psicopatici, di tratti narcisistici, di machiavellismo che sarebbe poi la manipolazione quella eh diciamo di alto livello quindi la manipolazione organizzata volta anche no a cercare delle scappatoie molto eh strutturate come abbiamo visto lui ha prima tentato con il veleno ha poi in qualche modo messo in atto tutta una sequela di eh attività anche di spostamento dei mobili per non sporcare le superfici per essere il più pulito possibile una settimana prima c'è un video che gira di lui che mh dichiara amore eterno alla seconda ragazza che frequentava quindi anche con la non curanza di quello che ehm avrebbe potuto pensare Giulia qualora ne fosse venuta a conoscenza quindi da un lato c'è un un impagnatiello che sicuramente si muove su questi tratti per quanto riguarda Turetta in realtà è il rovescio della metaglia cioè la sua struttura di personalità anche delineata ehm dai eh consulenti della difesa che in qualche modo hanno cercato di ehm di tirar fuori no una fragilità che poi è evidente la psicopatologia nasce da delle fragilità cioè nessuno nega che chi si struttura in modo psicopatologico possa avere una fragilità di fondo però nella diciamo la l'impalcatura che noi costruiamo su questa fragilità è fa la differenza in questo caso anche Turetta sembra avere una ehm organizzazione narcisistica di personalità però di tipo diametralmente opposta a quella di un impagnatiello la diciamo le due eh più eh le categorie diciamo quelle più frequenti che si riscontrano nel narcisismo che poi ci riportano anche i manuali sono quella di tipo covert e quella di tipo overt e mh sono la stessa struttura ma con uno come impagnatiello più grandioso più arrogante più fuori di sé no più eh portato alla socialità e quindi a mostrare di sé una maschera che non esiste e quella di tipo covert che è quella di mh Turetta più sommesso più diciamo vittima di se stesso e la manipolazione in Turetta c'è perché è una manipolazione sul vittimismo no? Abbiamo visto che Giulia diceva costantemente io mi ammazzo se tu mi lascio non esisto tu devi fare tutto con me perché io esisto solo se ci sei tu sei cattiva se non fai quello che dico io quindi in realtà i punti in comune il filo rosso è lo stesso è la modalità poi in cui hanno tirato fuori il loro essere letali che è differente. E visto che appunto abbiamo parlato di adesso del di queste due personalità protagoniste di queste due vicende una cosa che invece a me ha lasciato un po' eh un po' senza parole nel nell'osservare queste due vicende e che sono poi successe nelle 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 ultime ore no? Da un lato abbiamo visto la mamma eh di Giulia Tramontano che appunto ha concluso con questa carezza verso la PM mentre dall'altra parte invece il papà eh Giro Cerchettin il papà di Giulia che eh in una recente intervista da da Fazio ha eh dichiarato di non di essere riuscito ad ascoltare le parole di Turetta senza provare eh rabbia o o odio appunto addirittura nei confronti di confronti di quindi diciamo quello che a me ha stupito è questa eh non 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 la voglio definire non non freddezza però questo questo senso ammorevole che loro mostrano nonostante poi quello che comunque stanno affrontando diciamo aggravato anche poi dal dall'interesse dei media su 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 entrambe le due vicende. Sì beh ehm sicuramente io credo che per un genitore affrontare eventi del genere sia qualcosa di terrificante no? Quindi anche la reazione sicuramente è frutto anche di della propria struttura no? Nel senso si rimane gli stessi anche nel dolore quindi tendenzialmente noi vediamo quello che è il modo di affrontare il dolore di qualcuno che nello specifico Gino Cecchettina non dimentichiamoci ha perso la moglie neanche troppo tempo prima di perdere la figlia quindi io immagino che quell'uomo abbia anche forse bisogno di rimanere estremamente saldo perché ha altri due figli di cui prendersi cura non ha probabilmente più neanche il supporto chiaramente di una figura in questo momento sicuramente la mamma dei dei figli ma in generale no? Una figura femminile che che è presente anche per cercare di sollevarlo un po' dal dolore quindi immagino che in qualche modo la sua freddezza possa essere freddezza poi apparente no infatti esatto parliamo di questo possa essere una struttura che sostenga un dolore terrificante dall'altra parte sicuramente vediamo il gesto di una mamma il gesto di una mamma appunto mi verrebbe di dire perché quella carezza mi sembrava estremamente materna però forse quella carezza racchiudo un po' il sentirsi capiti cioè la PM è stata veramente eh veramente dura nella descrizione di impagnatello e quindi per un genitore che chiede giustizia forse quello è un po' come a dire grazie che tu hai fatto questo cioè grazie che hai riportato le giuste responsabilità dove dovevano stare anche perché abbiamo sentito gli avvocati della difesa che devo dire oltre al lavoro pienamente sacrosanto di difendere il diritto del dell'imputato hanno secondo me travalicato un po' il limite di quello che era necessario dire e quindi forse quella carezza sta un po' a ringraziare di aver quantomeno messo a posto i tasselli in modo responsabile ovviamente eh da una parte c'è quello che succede dentro le aule dei tribunali dall'altra parte l'abbiamo visto anche ieri c'è tutta una mobilitazione della società proprio per contrastare la lotta eh per contrastare la violenza eh sulle donne abbiamo visto blitz alla sapienza abbiamo visto quel minuto di rumore che già era stato eh che era partito proprio subito dopo l'omicidio di eh Giulia Cecchettin ehm tu anche nel diciamo sul tuo profilo eh dici basta eh definirlo amore perché si lega sempre a un ex quindi a un amore che c'è stato un amore che in realtà per quello che succede non c'è non esiste quindi da dove bisogna ripartire per forse che non si parli più di amore in questo caso intanto bisognerebbe smettere di chiamarlo amore nel senso si dice amore tossico amore malato ma non è un amore non può essere tossico malato quindi è evidente che la parola amore non ha nessun senso di esistere in queste relazioni ma perché perché un impagnatello un Turetta hanno una struttura di personalità che non gli permette di sperimentare per l'altro più che per se stessi eh un sentimento genuino quando la perizia definisce impagnatello ehm lucido assassino psicopatico narcisista manipolatore e quant'altro in realtà oltre all'etichetta sta dicendo che quella persona è centrata su se stessa quindi tutto quello che fa tutto quello che prova tutto quello che vuole è un appagamento del proprio bisogno quindi l'altro è strumentale tu mi servi per rimandarmi un'immagine di me migliorata o per confermarmela e quindi alla fine io non posso provare qualcosa di vero di genuino di spontaneo perché tu non esisti cioè tu non sei una persona in carne d'ossa con dei sentimenti sei un oggetto e allora se questo è vero cioè se questo tipo di relazioni funzionano in questo modo è veramente un un'offesa chiamarlo amore questa è una relazione sbilanciata di dominio e potere e controllo sull'altro che lo vediamo sempre più spesso è letale è veramente letale quindi l'amore non può essere letale l'amore deve essere no supporto deve essere reciprocità deve essere sicurezza quindi se non c'è questo non c'è amore e ripartire da dove ripartire da dalla base veramente dalla base cioè da insegnare ai più piccoli che cos'è l'amore cioè dove si trova l'amore e quando si manifesta l'amore perché così si può riconoscere quando non c'è quando è tutt'altro ecco forse non so se magari questa questa sentenza no che arriva proprio in in questa giornata come abbiamo detto all'inizio della chiacchierata abbastanza ma molto significativa magari può essere forse un primo passo per iniziare un po' a scuoterle davvero queste coscienze poi al di là di tutte queste manifestazioni che continuano e immagino continueranno però forse una sentenza così importante di un caso che comunque ha avuto un eco fortissimo data in questa giornata forse secondo me è un segnale davvero davvero forte è un segnale perché poi arriva dalle istituzioni no perché sicuramente noi lo gridiamo sempre del giusto che lo gridiamo cioè sì dobbiamo fare qualcosa noi ma devono cominciare a fare qualcosa anche le istituzioni perché altrimenti no veramente manca il supporto di una struttura più grande che può sicuramente avere strumenti anche diversi e se è vero che in qualche modo questa sentenza può essere un punto un punto fermo un puntello no a cui attaccare una rete magari una rete che serve a mostrare effettivamente che cosa è amore che cosa non lo è però d'altra parte queste coscienze non sono solo le coscienze quelle eh di diciamo delle cariche più alte le coscienze sono anche quelle nostre quelle dell'uomo comune che purtroppo ancora oggi ha è mh ancorato a veramente a degli schemi di riferimento a dei modelli di riferimento a dei vissuti sociali che aderiscono a un modello dove il dominio sull'altro è ancora molto presente ancora molto forte è notizia di qualche giorno fa no quella ragazza che ehm è stata intervistata perché il suo fidanzato è il suo ex fidanzato eh dopo averla picchiata diciamo ha ehm è stato eh protagonista ecco di eh anche eh i vicende come no scomparse varie eh erano gli arresti domiciliari adesso non si trova chiaramente lei ha timore di essere nuovamente aggredita intervistata la madre la madre si è mostrata altamente mh diciamo aggressiva nei confronti della giornalista mh si eh viene mandato in onda un audio dove dice che cosa gli ha fatto che ha solo rotto il naso quindi a manifestare che spesso e volentieri questi schemi questi modelli vengono da lontano cioè sono riprodotti poi perché effettivamente appartengono a una cultura di riferimento quindi per questo bisogna iniziare dal basso dai più piccoli ma anche scuotere le coscienze oggi e dire guardatevi intorno guardatevi dentro perché se avete questo modello simile intorno c'è qualcosa che non va vi dovete discostare non può andar bene non può funzionare certo ehm infatti c'è proprio quello nel senso che a un certo punto poi eh se succede qualcosa bisogna guardare anche a quella che è stata un'educazione o comunque a magari dei modelli sbagliati o dei modelli che poi vengono riproposti probabilmente anche il fatto del raccontare ci sembra sempre sempre di più che eh siamo proprio ehm circondati da casi di cronaca nera di femminicidi perché ovviamente anche le notizie ovviamente raccontano di di questi fatti ed inevitabilmente devono raccontarle però poi è giusto raccontare anche l'altra faccia di quello che succede quindi anche la mobilitazione delle istituzioni delle persone proprio per eh ripartire e magari migliorare questa questa società assolutamente eh la dottoressa Roberta Catania la ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. Grazie mille. Grazie per l'invito. Buon lavoro. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.